Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? No, dice l'uomo di Washington, appartiene ai poveri? No, dice l'uomo in Vaticano, appartiene a Dio? No, dice l'uomo di Mosca, appartiene a tutti? Io rifiuto queste risposte. Piuttosto scelgo qualcosa di diverso. C'è l'uomo impossibile, c'è l'uomo. No, dice l'uomo. No, dice l'uomo.